Il Comune di Brindisi ha ricevuto il Premio Nazionale Comunità 2023 Future for Cities assegnato nel corso del Festival delle Città che cambiano al progetto Case di Quartiere finanziato dalla Regione Puglia attraverso il POR Puglia 2014-2020 Azione 3.2 e 9.3 Hub di Innovazione Sociale. Per la categoria Comunità oltre a Brindisi sono arrivate in finale le esperienze del Comune di Milano, Bergamo, Lecce, Associazione Maestre di Strada di Napoli e Ministero della Giustizia a partecipare più di 370 progetti da tutta Italia che di fatto costituiscono la mappa di chi e come sta cambiando la città nel paese attraverso sei tematiche principali ambiente, mobilità, comunità, sviluppo economico locale, innovazione e rigenerazione urbana. Il progetto Case di Quartiere avviato a gennaio 2023 ha rifunzionalizzato 10 immobili sottutilizzati nel centro e nella periferia della città di Brindisi che oggi ci sono luoghi di aggregazione e offerta culturale, i beni monumentali nel centro storico, Palazzo Guerrieri, Ex Convento delle Scuole Pie, Ex Convento Santa Chiara, Bastioni Carlo V, Parco Bucicchio nel quartiere Sant'Elia, il centro di aggregazione giovanile del Paradiso, Casa San Bao alla Rosa e le case in via di attivazione Home Lab nel quartiere Paradiso, Ex Supermercato Perrino e centro di dinamicizzazione del quartiere di Tuturano. Le case di quartiere, i loro enti gestori, le comunità di riferimento, oggi diventati una rete, sono stati accompagnati grazie al progetto in percorsi di animazione, affiancamento, formazione e mentoring che hanno di fatto consentito la nascita di nuovi servizi di welfare di comunità. Il premio comunità conferma e rafforza la scelta del comune di Brindisi di potenziare il modello del progetto Case di Quartiere attraverso la sua continuazione con il PN, PON, Metro Plus e Città Medie Sud di cui è in corso il percorso di coprogettazione con la cittadinanza.